salve a tutti iniziamo la playlist dedicata ai sistemi lineari vedendo degli esercizi relativi a sistemi di due equazioni due incognite risolti con il metodo della sostituzione il primo è un sistema molto semplice i primi saranno in generale dei sistemi molto semplici x meno y uguale 3 x più y uguale 9 ecco quindi richiamiamo la x dalla prima equazione quindi portiamo y al secondo membro che dal negativo diventa positivo e quindi x uguale 3 più y lo sostituiamo nella seconda al posto della x 3 più y più y uguale 9 quindi x uguale 3 più y dalla prima e 2y uguale a 9 e portiamo il 3 al secondo membro ora x uguale 3 più y sempre la prima e 2y uguale 6 dalla seconda 2y uguale 6 se dividiamo per due entrambi i membri otteniamo y uguale a 3 quindi scriviamoci prima la y y uguale 3 con questa semplificazione naturalmente lo sostituiamo nella prima e otteniamo 3 più 3 è 6 finito l'esercizio conviene sempre fare la verifica soprattutto se non abbiamo come in questo caso le soluzioni quindi prendiamo la prima equazione e sostituiamo la coppia di numeri ottenuta quindi 6 meno 3 chiaramente qui il conto è molto semplice 6 meno 3 è uguale 3 in effetti 3 uguale 3 verifica ok vediamo il secondo sistema abbiamo 2x meno 5y uguale 7 e poi x meno 3y uguale 1 conviene sempre lavorare sull'equazione che ha i coefficienti più semplici da trattare in questo caso teniamo sempre ordinato il sistema quindi ci ricaviamo x dalla seconda equazione che riscriviamo come prima perché la coppia ordinata prevede prima x e poi y quindi x uguale 1 meno 3y al secondo membro diventa più 3y adesso lo sostituiamo questa x nella seconda equazione e abbiamo 2 aperta parentesi che moltiplica 1 più 3y meno 5y uguale 7 e quindi x uguale 1 più 3y qui adesso facciamo la moltiplicazione 2 per 1 è 2 2 per 3y è 6y meno 5y uguale 7 andiamo a capo x uguale 1 più 3y e abbiamo per la seconda 6y meno 5y è y uguale 7 meno 2 abbiamo portato il 2 al secondo membro e cambiato di segno quindi dalla seconda y uguale a 5 sostituiamo nella prima abbiamo x uguale 1 più 3 per 5 che ci dà 16 quindi la soluzione del sistema è x uguale 16 y uguale 5 facciamo la verifica possiamo farlo anche in questo spazio qua ci entra prendiamo ad esempio la prima equazione del sistema originario quindi la prima equazione è 2 per x cioè 2 per 16 meno 5 per y quindi 5 per 5 uguale 7 2 per 16 è 32 5 per 5 è 25 ed effettivamente 32 meno 25 è 7 verifica ok terzo sistema per questo video 5x più y uguale 20 prima equazione poi 5x più 7y uguale 20 ricaviamo y vi ricordo che scelgo sempre se chiaramente quando è possibile l'incognita che ha come coefficiente 1 in modo da semplificare i calcoli siccome stiamo ricavando y ce la scriviamo come seconda per mantenere ordine quindi y dalla prima uguale a 20 meno 5x ho portato il più 5x al secondo membro e l'ho cambiato di segno e poi ci scriviamo la seconda per prima abbiamo 5x più 7 sostituiamo ad y 20 meno 5x uguale 20 lavoriamo sulla prima e abbiamo abbiamo 5x più 7 per 20 è 140 meno 7 per 5 35x uguale 20 la seconda rimane così com'è y uguale 20 meno x e quindi adesso abbiamo 5x meno 35x è meno 30x quindi meno 30x uguale 20 e portiamo il 140 al secondo membro meno 140 y uguale 20 meno x e quindi meno 30x uguale meno 120 e ancora y uguale 20 meno x ora dividiamo la prima equazione per meno 30 e abbiamo 1 chiaramente a primo membro perché vogliamo x uguale e meno 120 diviso meno 30 è 4 sostituiamo nella seconda 20 scusate qui è 5x quindi è 20 meno 5x 20 meno 5x 20 meno 5x 5 per 4 20 facciamo il passaggio che ci dà un 20 meno 20 è 0 quindi la coppia di soluzioni è x uguale 4 y uguale 0 verifica prendiamo ad esempio la seconda equazione quindi abbiamo 5 per x cioè 4 più 7 per y cioè 0 uguale 20 7 per 0 è 0 e quindi 5 per 4 è 20 20 uguale 20 verifica ok questo sistema prevede x meno 6y più 5 al primo membro della prima equazione uguale 3 meno 7y più 10 più 2x più 2 seconda equazione x più y uguale 6 meno 8 l'equazione non è in forma normale dobbiamo prima ridurla quindi sommare i monomi simili andiamo a farlo nella prima x meno 6y portiamo a primo membro il meno 7y che diventa 7 più y e il più 2x che diventa meno 2x portiamo a secondo membro il 5 che diventa meno 5 ma a secondo membro avevamo già 3 più 10 più 2 che è 15 quindi 15 meno 5 seconda equazione x più y uguale meno 2 bene abbiamo un meno x e un y dalla prima equazione uguale 15 meno 5 10 e possiamo ricavare la y in questo caso dalla seconda equazione e quindi y uguale meno 2 portiamo x al secondo membro che diventa meno x sostituiamo nella prima e abbiamo meno x meno 2 meno x uguale 10 e sempre y uguale meno 2 meno x dalla seconda ora meno x meno x è meno 2x il meno 2 lo portiamo al secondo membro diventa più 2 e quindi più 10 è 12 y uguale meno 2 meno x ora dividiamo per meno 2 la prima equazione meno 2 fratto meno 2 è 1 12 fratto meno 2 è meno 6 e quindi x uguale meno 6 y uguale meno 2 meno meno 6 quindi più 6 x uguale meno 6 y uguale 4 è la soluzione del sistema solita verifica prendiamo ad esempio la prima equazione meno meno x significa 6 y y è 4 e effettivamente 6 più 4 10 uguale 10 verifica ok prossimo sistema 2x meno 4 uguale 3 y e poi 4y meno 1 uguale 2x il sistema non è in forma normale però guardate qui abbiamo un 2x che è uguale a 4y meno 1 che possiamo sostituire direttamente nella prima e quindi eseguendo la sostituzione abbiamo 4y meno 1 meno 4 uguale 3y e questa fatemela scrivere così 2x uguale perché poi ci ricaveremo x 4y meno 1 adesso scriviamo la prima per seconda perché da questa otterremo la y e quindi 4y portiamo il 3y al primo membro che diventa meno 3y e poi portiamo il meno 1 meno 4 che è meno 5 al secondo membro cioè 5 cambiato di segno dalla prima ricaviamo la x quindi dividiamo per 2 tutta l'equazione primo e secondo membro e otteniamo x uguale 4y diviso 2 e 2y meno un mezzo dalla seconda 4y meno 3y e y quindi y uguale a 5 direttamente sostituiamo nella prima abbiamo x uguale 2 per 5 10 quindi 10 meno un mezzo x uguale minimo comune multiplo 2 2 per 10 20 meno 1 e ancora y uguale 5 20 meno 19 quindi x uguale 19 mezzi y uguale 5 la coppia ordinata soluzione del sistema prendiamo la seconda equazione per la verifica quindi abbiamo 4 per y cioè 4 per 5 meno 1 uguale 2 volte x cioè 2 per 19 mezzi 4 per 5 20 quindi 20 meno 1 uguale 2 e 2 si moltiplica 19 la verifica viene in quanto 20 meno 1 è 19 e quindi 19 uguale 19 3x meno 1 uguale 0 4x più 2y uguale 0 allora siccome nella prima equazione c'è solo la x possiamo già determinare il valore di x quindi portiamo il meno 1 al secondo membro che diventa 1 la seconda la riscriviamo così com'è 4x più 2y uguale 0 e dalla prima dividendo entrambi i membri per 3 otteniamo che x è uguale dopo la semplificazione a un terzo quindi x uguale un terzo sostituiamo nella seconda e quindi 4 terzi più 2y uguale 0 x uguale un terzo portiamo il 4 terzi al secondo membro e quindi abbiamo 2y uguale meno 4 terzi dividiamo per 2 possiamo scrivere anche per un mezzo e abbiamo 2 e 2 che fa 1 2 e 4 che fa 2 e quindi la coppia ordinata soluzione del sistema è x uguale un terzo y uguale meno due terzi prendiamo la seconda equazione come verifica e abbiamo 4 per x quindi un terzo più 2 per y quindi 2 per meno due terzi e questo ci deve dare 0 allora 4 terzi più meno 4 terzi è uguale a 0 in effetti siccome 4 terzi meno 4 terzi è 0 0 uguale a 0 verifica ottenuta prossimo sistema 5 che moltiplica 5x meno 2 uguale 20x meno 2 per y meno 3 seconda equazione 2 che moltiplica x meno 5 meno 12y uguale 21 per 1 meno y allora sviluppiamo tutti i conti per poi ridurre il sistema in forma normale prima equazione abbiamo 5 per 5x che è 25x e poi 5 per meno 2 meno 10 questo è uguale a 20x meno 2y meno 2 per meno 3 è più 6 dalla seconda equazione otteniamo 2x meno 10 2 per meno 5 meno 12y uguale 21 per 1 21 e poi 21 per meno y è uguale a meno 21y ora 25x meno 20x dal secondo membro più 2y sempre dal secondo membro è uguale a 6 il meno 10 portiamo al secondo membro e quindi più 10 seconda equazione 2x abbiamo poi meno 12y e poi abbiamo un più 21 dal secondo membro 21y questo è uguale a 21 e il meno 10 dal primo membro più 10 25x meno 20x è 5x poi abbiamo il più 2y uguale 6 più 10 che è 16 seconda equazione 2x meno 12y più 21y è più 9y e poi abbiamo 21 più 10 che è 31 qui scelgo di ricavare x dalla seconda e riscrivo come prima potevamo anche ricavare 2y dalla prima quindi quindi 2x uguale a 31 meno 9y e la prima la riscrivo come seconda 5x più 2y uguale 16 x uguale 31 mezzi meno 9 mezzi y ho diviso tutto per 2 siccome non ho spazio per scrivere sotto la seconda equazione permettetemi di scriverla qui la seconda equazione è 5 sosteniamo già x perché il valore ce l'abbiamo che moltiplica 31 mezzi meno 9 mezzi y più 2y uguale 16 ora andiamo a scrivere il sistema ordinato e per intero nella prossima pagina x uguale a 31 mezzi meno 9 mezzi y e poi 5 per 31 è 155 mezzi meno 5 per 9 45y quindi 45y mezzi più 2y uguale 16 moltiplichiamo tutto per 2 la seconda equazione in modo da eliminare il denominatore ancora riscriviamoci il sistema abbiamo dalla prima x uguale 31 mezzi meno 9 mezzi y mentre la seconda è 155 155 mezzi per 2 è 155 meno 45y più 4y stiamo moltiplicando per 2 la seconda è uguale a 32 16 per 2 16 per 2 riscriviamo la prima equazione che è x uguale 31 mezzi meno 9 mezzi y per quanto riguarda la seconda abbiamo meno 45y più 4y che è meno 41y e portiamo e portiamo il 155 al secondo membro quindi il secondo membro diventa 32 meno 155 x uguale 31 mezzi meno 9 mezzi la prima equazione 9 mezzi y la seconda equazione è meno 41y uguale meno 123 dividiamo per meno 41 primo e secondo membro della seconda equazione e qui richiamiamo y uguale 3 positivo sostituiamo nella prima x uguale 31 mezzi meno 9 mezzi per 3 quindi x uguale 31 mezzi meno 27 mezzi ma 31 meno 27 è 4 e quindi 4 mezzi che è 2 e y uguale 3 quindi la soluzione riscriviamocela x uguale a 2 e y uguale a 3 facciamo la verifica e chiudiamo il video con questo sistema dobbiamo sceglierci una delle due equazioni originali possiamo ad esempio scegliere la prima e andiamo a sostituire x ed y quindi 5 che moltiplica 5x diventa 5 che moltiplica 5 per 2 meno 2 questo è uguale a 20x quindi 20 per 2 ora non ricordo se avevo detto la prima o la seconda ma comunque non cambia meno 2 per y meno 3 quindi 3 meno 3 allora primo membro abbiamo 5 che moltiplica 5 per 2 10 meno 2 è 8 uguale 20 per 2 è 40 3 meno 3 è 0 quindi meno 2 per 0 è 0 ed effettivamente anche questa ci torna primo membro è 5 per 8 è 40 secondo membro 40 verifica ok come detto finiamo qui questo video spero vi sia stato utile se così è stato e vi è piaciuto vi chiedo un like e anche se possibile l'iscrizione al canale attivate la campanellina in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò ancora grazie un saluto e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.